Questa è un'aviazza pacifica, ci sta il popolo, un popolo che non ha colori. Oggi l'Italia si riprende, la libertà si riprende in avanti. Sapete oggi gli italiani liberi cosa fanno? Andate a studiare la cincinere! No, le botte a poliziotto! Il Green Pass è una violazione al diritto della persona di esistere. La libertà degli altri? Quale libertà degli altri? La mia libertà di lavorare senza spendere 200 euro al mese di tamponi, dove sta? Però tu hai un'alternativa che è quella di vaccinarti, perché non ti vuoi vaccinare? Io non mi voglio vaccinare perché ho tutto il diritto di non vaccinarmi. Voi che vi siete vaccinati probabilmente fra qualche anno siete morti. Questa è la sette ragazzi, questa è la sette! Fate schifo! Sono due anni che dici bugie! Due anni che dici bugie! Perduti! Non c'è da un cazzo! Vai schifo! Migliaia di morti si sono fatti! Ma che cazzo dici? Vai schifo! Vai lontano dal mio collega! Togli le mani dalla telecamera! Non ti vogliamo! Questa è solo pubblica, io sto facendo il mio lavoro! Voi della televisione siete pagati per mentire! Fate schifo! Ma lei chi è? Non sono cazzi tuoi! Lei chi è? Lei come si permette a tutti? Vabbè! 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 Lasciatelo! Lasciate stare il mio collega! Siete violenti! Sanitori! Se siete giudiziati! No! Basta! 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 La macchina di carabinieri che se ne va e loro festeggiano! No! 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 Guarda! Piano! Piano! È un carabiniere! No! Muoviti! Non dovete più dire in televisione le cazzate che vi dice il governo, che vi dicete di basta perché questo è il cuore dell'Italia, è il popolo, se se cazziamo noi buttiamo giù tutto. E' chiaro questo? Il politico è stato mandato dal popolo per rappresentare quella democrazia che loro hanno violato, la democrazia dal greco è democratos, governo del popolo, dove cazzo sta questo governo del popolo? E' così! Siamo padri di famiglia, ce li date due metri di distanza, che fate qua? Giratemi, non siamo noi i vostri nemici! A porta! Hanno fermato anche il leader di Forza Nuova, Castellino! Occhio, 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 cazzo! Attenso, attento, attento! Attenso! Ah, ovvio! Indipendenti latimoni! Indipendenti latimoni! Ah, attento! 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 No, 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 no.